Ciao ragazzi, non dico, ragazzi, voglio con la felicità, perché io mi sono appena nascita con il mio fidanzato e è una cosa bruttissima, perché separassi con il fidanzato è una cosa bruttissima, perché io la amavo, io la amavo tantissimo, per un'altra, per un'altra, per un'altra non lo seguiva, allora, era gelosa, era gelosa che io stavo con lui, non era così, non era così fortunata non era così, ok, allora, ha scritto, e io ci ho detto, scusa, ma, senti, lui è mio, non è per lo stesso, adesso comincia ad arrabbiarsi, e a, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, assente, ehm, ci ho parlato, ho detto, so, perché mi ho detto, tu non mi vedo, se ti lascio, ho detto, ok, sei sicuro, se ti lascio, e mi ha bloccato anche, e adesso non posso prevedere perché, ehm, questo telefono, ho il, beh, con questo, facendo il video, è il mio telefono, perché il telefono a me non c'è il mio telefono a me, quindi, non posso, però io posso parlare, perché, vabbè, vabbè, mi basta, ed è questo, io, io volevo dire, perché, come ho detto, questo, non lo so più, per colpa di quella, sempre, per colpa di quella che, ehm, ha voluto lui in campo, no, proprio, io voglio lui, basta, comunque, spero che questo video vi è piaciuto, mettete tanti pollici in su, e niente, ciao!